Ragazzuoli, io sinceramente sono veramente sotto shock e tra le altre cose ero pure in procinto di andare a dormire, ma proprio letteralmente nel momento in cui sono le due e un quarto di notte. Solo che ho detto dai, prima di buttarmi giù leggiamo le ultime due puttanate su Twitter così per farci una risata, poi andare a nanna e iniziare a pensare a Lazio Juventus con tra l'altro un video che doveva uscire a quest'ora anche molto importante, ma penso che comunque al di là di tutto lo farà uscire nel primo pomeriggio perché è un video molto importante sinceramente e che spiega tanto dell'ultimo periodo che sta attraversando la Juventus. Però ragazzi, io sinceramente di fronte a questa cosa qui, qualora fosse vero, ma proprio così a caldo dopo aver letto la probabile formazione, qualora fosse vero, come si può non iniziare a questo punto concretamente a pensare che Allegri stia cercando di fare di tutto anche per sabotare questa squadra? Perché io capisco tutto quanto, io non sono storicamente una di quelle persone che pensa che anche l'allenatore sta facendo di tutto perché chissà, magari ha già avuto garanzie del fatto che non sarà più il prossimo allenatore della Juventus. Non mi piace minimamente ragionare in questo modo, così come non mi piace neanche ragionare quando si dice che la squadra sta giocando propositamente di merda, sta perdendo di proposito per sperare di cacciare Massimilio. Sono cose che proprio non mi piacciono, non mi piacciono proprio per nulla. Ma se io vedo, se io vedo Mattia De Sciglio potenzialmente titolare, quantomeno secondo la probabile formazione di Giovanni Albanese, che comunque ci becca quasi sempre, diciamoci anche le cose come stanno, titolare in una partita poi particolarmente delicata come quella di stasera. Che cosa devo pensare? Cioè perché al di là di tutto capisco che già andiamo a Roma discretamente incerottati, vedendo che non ci sarà Vlaovic per squalifica, Milik per infortunio, Alcaraz, Kostic, poi chi è che è? Aleksandro. Quindi va bene, già che vai messo come sei messo, a livello di rosa disposizione, a livello psicologico, non ne stiamo neanche a parlare. Negli ultimi due mesi letteralmente hai vinto una partita al 95esimo in casa contro il Frosinone, affronterai una Lazio fresca di cambio d'allenatore, partita che al di là della questione allenatore, in particolar modo da giocare a Roma, è particolarmente difficile, complicata. Storicamente andare ad affrontare la Lazio non è mai una passeggiata di salute, anche quando magari riesce a portare il risultato a casa, ma sinceramente ragazzuoli, De Sciglio, che scusate se non sto guardando in camera, ma di fatto sto cercando, quando De Sciglio si è infortunato, si è infortunato in Juve Lecce del 3 maggio 2023, dove ha giocato appunto 32 minuti, per poi essersi infortunato al crociato, e appunto dal 3 maggio 2023, quindi di fatto 11 mesi, non gioca un minuto. Io come posso anche solo vagamente pensare che questa sera partirà dal primo minuto, c'è veramente qui, le cose come ho letto anche su Twitter, sono due, ma perché mi ci ritrovo perfettamente, o è una puttanata colossale, dove Giovanni Albanese ha deciso di toglierci il sonno, e quindi ci sta, sarebbe un'infamata, ma comunque ci sta, perché poi leggi il in junior e tutto sommato, sospiro di sollievo, va bene, o c'è veramente qui un qualcosa che non va, anche perché poi se ripenso alla domanda che era stata fatta ieri in conferenza, Massimiliano Allegri, proprio riguardo il in junior, e la risposta è stata, no vabbè, comunque il in junior ha giocato tanti in questa stagione, 500 minuti, che, sicuramente più di me che ne ho giocati zero, per l'amor di Dio, ma 500 minuti, vedendo anche poi quello che è stato il rendimento di Costi, ce n'è che sia proprio questa esagerazione di minutaggio via, se devo veramente prendere in considerazione l'ipotesi che, alla prima circostanza anche solo vagamente è utile, quel posto lo va a prendere De Sciglio, che già di base, qualora fosse regolarmente a disposizione, già di base, ci potrebbe potenzialmente esser da discutere su questa cosa, ma ha maggior ragione da dopo che non fa un minuto, dal 3 maggio, quando gli è partito un crociato, dove poi in tutto questo bellissimo esordisce prima De Sciglio, che già l'ho, che si è fatto male ancora prima, e che magari al suo posto si destreggiava un ottimo Alexandro, cioè veramente, io non voglio pensare che siamo arrivati a questa roba, cioè io non la posso minimamente prendere in considerazione, perché al di là di tutto non lo capisco, ti dà rendimento di prestazione, beh direi di no, vuoi, perché comunque anche prima del problema era De Sciglio, figuriamoci poi, che dal 3 di maggio, che non gioca, ti garantisce del minutaggio, per lo stesso identico motivo, mi viene difficile da pensarlo, cioè io sono veramente sotto shock, ragazzi, non lo so, rincuoratemi voi in una qualsiasi maniera, ma io non posso, cioè, mi sembra di sognare, io spero che a Giovanni sia arrivata veramente la soffiata, a mo' di presa per il culo, che hanno detto, dai, bullizziamo un pochettino, tutti gli utenti social, dello Juventus Twitter, di Giovanni Albanese, che così scrive, verso luna di notte, De Sciglio, possibile partente dal primo minuto, tolgono sonno a tutti quanti, una piccola burla, e tanti saluti, che è da compensare con una vittoria questa sera, ma altrimenti ragazzi, fuori da ogni logica, poi per carità, va bene, ecco, l'aria che tira da due mesi a questa parte, De Sciglia, a modo suo, sarebbe comunque una boccata d'aria fresca, che già qui sarebbe veramente tutto un dire, ma dai, ci siamo anche abbastanza capiti, però io davvero non, non riesco, ma proprio da nessun punto di vista, a trovare la minima logica, a questo fatto, sinceramente, non ce la faccio, non, non, non ce la faccio proprio, proprio per nulla, l'unica cosa che veramente mi sento di dire, oltre che a un semplice banale, poveri noi, qualora fosse vero, cazzo, anche povero Eling Junior, questo, mi viene anche un pochino di più dal cuore, già che questo qui, ha visto il campo per 500 minuti, nonostante un tre quarti di stagione, i limiti dell'imbarazzante da parte di Kostic, Kostic non c'è, per febbre, ma torna De Sciglio, che non gioca un minuto dal 3 maggio, via, subito titolare, al posto, De Linc Junior, ma appunto, io ancora non sono in quella fase, in cui voglio realmente credere, che alle 17, aprirò il profilo social della Juventus, su ogni qualsiasi tipo di piattaforma, e vedrò due De Sciglio, nell'undici di partenza, ancora non ci voglio pensare, però nel momento in cui, lo riporta, un giornalista, quantomeno affidabile, dal punto di vista delle formazioni, via, non ci vogliamo, no? Così, andare troppo oltre, su tutti gli altri temi, dal punto di vista delle informazioni, delle formazioni, sì, come Giovanni Albanese, boh, io, sono sotto sciocche, basta dai ragazzoli, anche perché, si è fatta una certa, tempo che finirò, di, di dimontare, di pubblicare, e quant'altro, saranno le tre passate, quindi vi saluto, voi semplicemente, fatemi sapere qui sotto la vostra, con un commento, anche se ho una vaga idea, già ce l'ho, vi mando un grosso abbraccio, e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!